La mia domanda scaturisce dalla prima domanda che è stata fatta e, come hai detto, è questione di quanto sia intenso il tuo desiderio. Il mio problema è che manco di disciplina in molte cose, incluso che non riesco a mantenere la disciplina nel fare il mio shambhavi regolarmente. E penso che se sia perché, ovviamente, se desiderassi qualcosa sinceramente, allora la disciplina arriverebbe. Quindi il desiderio è sempre... è collegato a una certa situazione e a un momento. Giunge con una situazione o un momento oppure si può fare qualcosa per intensificare il desiderio stesso. Da quanto tempo non ti senti affamato? Da qualche ora. Davvero affamato? Quando è stata l'ultima volta? Perché la maggioranza delle persone non si permettono mai di essere affamate. Mangiano tutto il giorno. Da quanto tempo non ti senti davvero, davvero affamato? Una volta ogni tanto, sì. Dimmi da quanto tempo. Davvero, davvero affamato? Voglio dire, naturalmente la fame arriva, poi mangiamo. Ma non so quando mi sono sentito così affamato da essere... Ok, è stato tanto tempo fa, quindi. Perché la fame non è un'esperienza che dimentichi. È intensa. Quindi, se hai digiunato per tre giorni, quattro giorni, allora userai tutto. Non farai un movimento del dito in più. Userai tutto attentamente. Dirai solo quello che vuoi dire. Non dirai da-da-da-da-da-da-da-da-da-da parlando così. Andrai con attenzione, perché adesso le energie sono limitate. E sai che devi essere in un certo modo. Nessun allenamento è necessario. Semplicemente, siccome sei affamato, diventi tranquillo. Diventi così. Allo stesso modo, se il desiderio di qualcosa è proprio come la fame, se il tuo desiderio è abbastanza forte, tutto si sistemerà da sé. non serve che porti disciplina nella tua vita non serve che cerchi un guru niente, tutto se lineerà da sé se il tuo desiderio è abbastanza forte quindi il problema è che non c'è desiderio perché ci sono troppi spuntini le persone che fanno degli spuntini tutto il tempo non sentono la fame siccome fai degli spuntini fare uno spuntino significa che al momento cerchi di soddisfare il tuo desiderio il desiderio umano è di espandersi senza confini ma tu soddisfi il tuo desiderio facendo compere guardando una partita di cricket guardando un film parlando con qualcuno leggendo qualcosa distraendoti con un milione di altre cose passa solo alcuni giorni niente dipingi solo la tua stanza di bianco ok? sedia confortevole ma occhi aperti senza dormire vigile e aperto niente leggere niente pensare niente creare nuove filosofie niente semplicemente seduto vedrai all'inizio potrebbe sembrarti di diventare pazzo ma dopo un po' vedrai chiaramente ciò che desidera questa vita diventa chiaro al 100% per te chiaro al 100% per te non ci sarà alcun dubbio al riguardo quindi questa è la ragione per cui creiamo degli spazi esiste un ashram affinché tu venga e ne faccia uso per la tua sadhana capisci? che tu venga e investa una certa quantità di tempo in un anno almeno una settimana o due solo per questo per nient'altro se pensi che questo essere ne valga la pena se senti che questo essere meriti almeno questa attenzione devi dargli almeno un paio di settimane all'anno 50 settimane per te 50 settimane per il mondo 15 giorni per te solo per te non per il tuo corpo non per la tua mente non per divertimento non per la tua famiglia solo per te devi capire questo la cosa migliore la cosa principale la cosa più bella che puoi offrire alle persone intorno a te è di essere un essere umano evoluto sì o no? non i tuoi soldi non la tua giatezza non le tue sciocchezze non è il tuo lavoro che farà la differenza che essere con te sia un'esperienza meravigliosa per le persone intorno a te la tua famiglia le persone con cui lavori i tuoi amici che tutti aspirino a essere con te perché è un'esperienza meravigliosa essere con te questa è la cosa migliore che puoi mai fare per ogni essere umano intorno a te è solo a questo che aspirano non è così? ma ora il problema è che cerchi quella persona meravigliosa oh, ho incontrato quella persona meravigliosa perché diavolo non sei tu quella persona meravigliosa perché non hai mai prestato attenzione a questo pensi che qualcosa che accade intorno a te sia più importante di ciò che questo è no, no, no la qualità della tua vita è determinata essenzialmente dalla qualità di ciò che questo è come questo è ecco come sarà ovunque ti mettiamo che ti mettiamo in paradiso o all'inferno l'esperienza la qualità della tua vita è determinata da come questo è non da come la situazione è devi passare un po' di tempo senza fare degli spuntini allora saprai cos'è la fame una volta che sei sufficientemente affamato allora conosci il valore del cibo non è così? altrimenti non conoscerai il valore del cibo cosa significa semplicemente non mangiare per 24 ore e poi quando qualcuno serve un pasto non trangugiarlo immediatamente stai seduto lì aspetta due minuti guarda il cibo vedi cosa significa per te è vita che sta lì nel piatto non qualche sciocchezza non del materiale non della roba è vita la tua vita che sta lì nel piatto non è così? se vedi il cibo così a livello esperienziale il modo in cui gestisci il cibo cambierà o no? sì? è tutto qui quindi se crei solo una settimana dove semplicemente non preoccuparti se vieni sistemeremo noi come sistemarlo per te? se lo sistemiamo in un certo modo poi vedrai voler sapere cos'è questo diventerà la cosa primaria nella tua vita una volta che c'è un forte desiderio tutto il resto si allineerà il paradiso e l'inferno funzioneranno per te inizieranno a funzionare per te se il desiderio è abbastanza grande nessuno può fermarlo ogni cosa si allineerà con te questa è la natura dell'universo se quest'unica cosa che è la sorgente della creazione si accende la creazione si allineerà dietro di te non sarà contro 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 di te